Amici ed amiche di unbox benvenute e benvenuti sul mio canale per il nuovo volantino performance della Parkside da giovedì 4 luglio 2024. Partiamo subito con il trapano perforare avvitatore con 60 Nm di coppia da 39,99. Questo è un prezzo favoloso per un trapano di questo tipo con 21 livelli di coppia selezionabili e anche la foratura. Ovviamente è un trapano che non può forare calcestruzzo, mattoni, pietre e quant'altro ma è un trapano secondo me più adatto alla lavorazione di legno plastica metalli teneri ed anche con le punte appropriate qualche metallo un pochino più tosto. Abbiamo un trapano davvero leggero in questo caso con un prezzo secondo me veramente straordinario per un trapano da ubista con una garanzia di ben 5 anni. Sempre con motore brushless, sempre con la garanzia di 5 anni performance abbiamo questo flessibilone da 40 volt quindi è la linea 20 V Team per due batterie da 129 euro. Abbiamo un flessibile con dei dischi da 28 che ovviamente è sempre meglio usare come smerigliatore ci mancherebbe ma che potete usare anche tra virgolette in versione da cantiere con i classici dischi diamantati. Questo flessibile l'ho provato anch'esso sul canale potete trovare lo spacchettamento e la prova nel canale basta cercare un pochino tra i video che ho postato sui performance e ne sono soddisfattissimo e lo uso anche abbastanza perché devo dire che per smerigliare va benissimo e si può usare anche per fare dei tagli un pochino più pesanti. Ovviamente io per tagliare i metalli ragazzi vi consiglio sempre le troncatrici quando e come è possibile. Batteria smart da 4A per 39,99 questa secondo me è la migliore tra le batterie di amperaggio medio per quello che riguarda il peso, la durata ed anche la modernità del suo disegno perché è una batteria bassa, leggera che si adatta bene a tutti gli utensili e vi consiglio ampiamente di acquistarla. Devo essere sincero l'ho provata, l'ho maneggiata ma non ne posseggo ancora per il semplice motivo che tento sempre di acquistare quelle di amperaggio maggiore perché mi sento diciamo più bilanciato ad utilizzare delle batterie pesanti o molto pesanti. Questa batteria però sicuramente va bene perché l'ho provata ripeto a casa di amici ed è una batteria molto leggera e molto performante e vi consente di utilizzare tutti gli articoli della Parkside Performance anche quelli che hanno bisogno di un amperaggio un pochino più alto dei soliti 2A. 7 bit per fresatrice da 15 pezzi a 19,99 questo è un set che se riesco a trovare e voglio acquistare massimo numero di giri 30.000 che poi sono i numeri di giri della fresatrice Parkside Performance che trovate recensita qui sul canale. Andiamo a curiosare tra gli articoli verdi. 39,99 per questa piccola motosega della linea verde della Venti V Team con una lunghezza di taglio di 16 centimetri. Diciamo che questa qui va a fare da carico diciamo da 90 quindi va ad essere un miglioramento va ad essere davvero una motosega che vuole migliorare la versione 12 volt perché ha delle prestazioni veramente molto buone. E' una motosega che viene fornita con il solito cappuccio per la lama più l'olio bio made in germany e che può essere utilizzata con tutte le batterie della Venti V Team. Sicuramente un articolo interessante questa va a fare un pochino il paio con il mini flessibile da 20 volt penso che abbiate presente a cosa mi riferisco. Sega circolare ricaricabile da 49 euro oppure potete comprare le lame se la sega ce l'avete già a 3 euro e 99 alla confezione. Sono lame da 150. Andiamo a vedere un pochino le caratteristiche di questa sega circolare. Ovviamente è una Venti V Team da tre anni di garanzia a linea verde. Angolo di taglio da 0 a 45. Massima profondità da 48 nel legno a 36 per gli altri supporti. Numero di giri a vuoto 3800. Sicuramente non ha delle prestazioni fantasmagoriche però per il prezzo di 49 euro potrebbe anche convenire acquistarla. Specialmente se siete nuovi agli utensili della linea Parkside 20 V Team iniziare la prova con qualcosa di non troppo costoso per capire se fanno per voi potrebbe essere l'ideale. Ecco qui le altre caratteristiche. Abbiamo la lama in dotazione da 24 denti che fa dei tagli un pochino più grossolani. Poi ovviamente possiamo acquistare lame con più denti per dei tagli un briciolo più precisi. Andiamo a dare un'occhiata a questa sega a nastro ricaricabile nella terza pagina. Una sega a nastro fornita con la solita maniglia supplementare più la chiavetta esagonale diciamo così 69 euro. Sempre linea Venti V Team sempre linea verde da tre anni di garanzia. Qui abbiamo un numero di giri a vuoto abbastanza buono da 370 a 670 al minuto. Una profondità di 63,5 millimetri con una velocità di un metro e mezzo o due metri e sette al secondo. Quindi taglia abbastanza velocemente. Ovviamente va saputo usare molto bene. Io aspetto che arrivi quella della performance così ne facciamo un bello spacchettamento ed una prova sul canale. Trapano battente ricaricabile. Mi verrebbe da chiamarlo tassellatore perché insomma assomiglia molto ai vecchi tassellatori Panasonic che si compravano una volta. Tra l'altro fantastici, migliori sul mercato. 34,99 abbiamo da 0 a 5000 percussioni al minuto e da 0 a 900 giri al minuto. Abbiamo tra l'altro l'opzione di utilizzare questo mandrino con il sistema SDS Plus e quindi abbiamo anche delle punte in dotazione sempre SDS Plus. Inoltre abbiamo tre punte HSS ed 8 bit per cacciavite. Prolunga per le punte e mandrino a serraggio rapido con 50 g di grasso. Quindi abbiamo il sistema SDS, abbiamo il sistema di mandrino supplementare come per la versione 12 volt e poi un sacco di punte da provare. Set di punte per trapano e bit. Qui abbiamo di tutto un po' per 17,99. Solita cassettina peraltro fatta molto bene. Parkside non linea performance ma comunque sicuramente acquistabile se avete bisogno di fare un pochino incetta di punte e di avere un pochino di tutto. Batteria da 2 ampere ora con carica batterie 24,99 il solito, lo standard, tre anni di garanzia. Però ricordatevi che da un bel pochino di tempo la Lidl ci dà questo cell balancing come diciamo miglioramento delle batterie. Quindi è molto utile avere queste batterie con il bilanciamento delle celle per fare in maniera tale che durino di più. Perciò abbiamo un consumo più omogeneo, una maggior durata della batteria. Lame per sega a nastro due pezzi 14,99, set di graffe o chiodi per la pistola spara punti 3,99 e la pistola spara punti da 39,99. Guardate che questa pistola spara punti è davvero un'ottima pistola per il prezzo. Certamente non vi consentirà di fare lavori giganteschi ma va ad essere un incremento di potenza, un miglioramento di disegno della versione da 12 volt che tra l'altro io posseggo e di cui sono veramente tantissimo soddisfatto. Quindi consiglio anche questa perché già l'ho vista usare in tantissimi video, l'ho usata solo una volta per dire la verità però mi ci son trovato davvero bene. batteria 2 ampere singola 17,99 sinceramente converrebbe acquistare più quella da 4 ampere smart a questo punto però se proprio volete una batteria semplice e volete spendere poco questa qui ha anche il cell balancing quindi potrebbe tutt'al più starci. L'uterino o fresatrice verticale 39,99 il vattaggio è molto buono 1200 watt di potenza battuta a revolver in sei posizioni e qui abbiamo anche boccola e compasso inclusi numero di giri a vuoto fino a 30.000. Vedete è molto molto bella sinceramente ha davvero un design stupendo. Tornio per legno da 89 passiamo a 69 euro un tornio che è stato riproposto tante volte io non l'ho ancora provato sinceramente non avrei lo spazio in questo momento nella piccola officina che ho fatto per poterlo provare però sicuramente potrebbe essere interessante per progetti futuri. Se l'avete acquistato fatemi sapere nei commenti com'è. Per tutti i possessori dell'app Lidl Plus che vi invito a scaricare perché vi dà davvero diritto a tanti sconti anche del 5% sulla spesa piuttosto che ad avere oggetti in omaggio ed anche prodotti vari alimentari e non in omaggio abbiamo la guida di bloccaggio e di taglio da 8,99 questa la posseggo la consiglio ed è una guida che se regoliamo bene può davvero aiutarci a fare tanti tagli precisi abbiamo il 7 di punte da trapano per legno per metallo a step ed anche per legno ad elica 4,99 al set ovviamente uno sconto molto molto forte del 25% nel primo caso e del 28% nel secondo caso cavalletto di supporto da 39,99 un cavalletto davvero ben fatto per il prezzo considerate che questo cavalletto regge fino a 150 kg e possiamo utilizzarlo anche per la nostra attrezzatura perché potete tranquillamente metterci una sega di quelle diciamo per le mollure ecco per le assi di legno assicurandola proprio al cavalletto stesso ed utilizzarla magari durante un lavoro o non so di moda natura di una porta piuttosto che 39,99 secondo me è un ottimo prezzo io devo dire la verità ho già dei cavalletti della Sheppac che sono molto buoni quindi questo non lo utilizzerei tanto però se vi manca il cavalletto ecco un cavalletto di metallo di questo tipo sicuramente può manifestarsi come un'ottima scelta arriviamo al momento 3x2 allora qui abbiamo delle tenaglie delle pinze pinze a becchi lungo abbiamo anche dei cacciaviti abbiamo le solite matite con il tempera matite specifico e poi la livella parkside 2,99 se acquistate tre pezzi 5,98 totale quindi un ottimo 3x2 questo è utile soprattutto per tutti coloro che vogliono fare una piccola borsetta di emergenza diciamo così magari da tenere alla casa al mare piuttosto che in cui avere anche che so io diversi tipi di tenaglie o di pinze diversi tipi di cacciavite e così via io specialmente in passato approfittavo spesso di questo tipo di offerte perché in effetti avere una borsetta diciamo di ferri da lasciare nella casa di vacanza piuttosto che da portare in campeggio è sempre molto utile arriviamo al super weekend che vi ricordo parte sempre dal venerdì per arrivare alla domenica sera abbiamo il barbecue affumicatore a carbonella per soli 79 euro temperatura regolabile grazie ai regolatori di ventilazione sulla camera di combustione e la valvola del camino abbiamo il termostato integrato sul top abbiamo delle dimensioni di 107 per 113 e mezzo per 63 e mezzo lato per altezza per profondità diciamo che non ha delle dimensioni gigantesche andiamolo ad osservare un pochino meglio molto carino il piano d'appoggio anteriore molto carine le griglie ben fatte l'affumicatore mi piace tanto per il prezzo sicuramente scontato di 40 euro addirittura dal prezzo originario questo grillmeister può essere la scelta giusta per il comune terrazzo ecco farsi una grigliatina con gli amici o con la famiglia è sempre qualcosa di meraviglioso unboxo notturno sono le 12 e 18 vi saluta vi abbraccio tutti quanti e tutte quante la settimana prossima torniamo con un nuovo spacchettamento per adesso buona giornata a tutti